Dallo spazio al Teatro San Carlo di Napoli. L'astronauta Samantha Cristoforetti fa tappa nel capoluogo campano per raccontare l'esperienza vissuta a bordo della stazione aerospaziale. Tanti gli episodi che ha voluto condividere con il pubblico presente, da come si vive senza forza di gravità, di cosa ci si nutre, il primo caffè espresso bevuto a bordo della capsula, gli esercizi fisici da effettuare quotidianamente. Quello che veramente non si deve avere, che è importante non avere, è la tendenza a drammatizzare, a prendere ogni cosa in maniera eccessivamente personale, a prendere ogni cosa in maniera eccessivamente seria. Cioè ci sono gli aspetti lavorativi, quindi le procedure, quelle vanno fatte così come previsto, con attenzione al dettaglio, con concentrazione eccetera. Tutto quello che riguarda il vivere insieme va preso con un po' di senso di umorismo, con un po' di flessibilità. Ogni tanto facciamo festa perché ci arriva del cibo fresco. In piccole quantità, quando ci mandano un veicolo cargo di rifornimento, mettono dentro in piccole quantità mele, arance, peperoni, carote. E poi i principali motivi che spingono oggi l'essere umano ad attraversare l'atmosfera terrestre. I colleghi hanno fatto questo esperimento di crescita di una varietà di lattuga e hanno avuto, e credo che sia la prima volta, almeno forse se l'hanno fatto prima, però in Andrussi credo che sia la prima volta che il gastronautista ha usato il permesso di mangiare qualcosa che è stato coltivato nello spazio. Ci permettono questi esperimenti di capire meglio, proprio a livello fondamentale, come funziona la pianta. Ripeto, a livello proprio di attivazione dei geni. E questo poi applicato ad una ricerca, ad uno sviluppo tecnologico a terra, ci permette di ottimizzare le tecniche di coltivazione, di incrementare la produttività dei terreni e quindi di dare da mangiare a Expo di Chafi in the Planet, dare da mangiare a questi 9 miliardi di persone che saremmo presto sulla strana della terra. L'evento si è concluso con un momento istituzionale. Sul palco il governatore della campagna, De Luca, e il sindaco di Napoli, De Magistris, che ha voluto premiare la Cristoforetti per le foto scattate dallo spazio del Golfo Partenopeo.